Arriva il Mago G, G come Garbusier. Niente, la situazione ancora non è migliorata dalla precedente. Allora... Cos'è quando hai spinto l'allarme? Praticamente sono sceso, sono da lì alla collonina, che erano 150 metri. Sono arrivato alla collonina e cercavo il telefono, e non c'era il telefono ovviamente, e c'era un pulsante. Per fare la doccia, è uscita l'acqua? No, ho spinto il pulsante e me lo chiedessi se c'erano dei bombut. I bombut, i bombut, perché l'era un fradd la madonna. Ma l'è ancora, non è che l'era, l'è ancora. Il mio giubbottino, c'è un nuovo giubbottino di carro e di onna.